Buongiorno, oggi parleremo di assiomi della probabilità e più precisamente introdurremo la nozione di esperimento casuale con i suoi tre ingredienti, lo spazio degli esiti, l'insieme degli eventi e la legge di probabilità. Ecco, gli assiomi della probabilità, come dicevamo, sono dovuti a Kolmogorov, il matematico russo, e secoli dopo che Pascal aveva iniziato a studiare la probabilità come disciplina scientifica, si è arrivati a una sua assiomatizzazione che la rende in qualche modo simile alla geometria euclidea. Nella geometria euclidea sapete che ci sono i postulati di euclide e da questi postulati si deduce tutta la teoria. Ecco, anche la probabilità, come vedremo, ha una struttura simile, quindi ci sono tre assiomi e da questi assiomi si deduce tutto il resto. Quindi, da un certo punto di vista, è stato profetico Pascal che aveva definito il calcolo delle probabilità come la geometria del caso. Chissà se, diciamo, aveva in qualche modo intuito quello che poi sarebbe arrivato secoli dopo. La cosa fondamentale, diciamo, da imparare in questa lezione è che la probabilità è definita sugli insiemi e fa uso della notazione insiemistica. In particolare ci sono due ingredienti nell'esperimento casuale che sono due insiemi fondamentali. Il primo insieme è l'insieme S degli esiti di un esperimento casuale. Insieme S che è chiamato anche spazio universo o spazio degli esiti. Sono tutti i possibili risultati dell'esperimento casuale. Facciamo subito un esempio. Nel caso di un dado, ovviamente, l'insieme S è dato dai numeri compresi tra 1 e 6. Quando voi lanciate il dado, i risultati possibili sono questi, sono i sei numeri da 1 a 6. Ecco, un secondo insieme fondamentale, che non deve essere confuso col primo, è l'insieme F degli eventi. L'insieme F degli eventi è un insieme di sottoinsiemi di S. Quindi, sostanzialmente, questo insieme F è fatto prendendo dei sottoinsiemi di S e questo insieme F gode di due proprietà. La prima proprietà è che se un evento A appartiene ad F, anche il suo negato deve appartenere ad F. Con assegnato noi indechiamo il negato o il complementare di A rispetto all'insieme S degli esiti. Facciamo subito un esempio. Se 1, pensiamo sempre al dado, se 1 è un evento, dobbiamo avere nell'insieme degli eventi anche il suo complementare. Il complementare di 1, se lo spazio degli esiti sono i numeri da 1 a 6, sono tutti gli altri numeri, 2, 3, 4, 5, 6. La seconda proprietà di cui gode l'insieme F è che se un evento appartiene ad F e un altro evento B, un evento A appartiene ad F e un altro evento B appartiene ad F, la loro unione, ricordate che noi usiamo il più al posto del segno di unione, appartiene anch'essa ad F. Di nuovo, prendiamo sempre il dado, se 1 è un evento e 2 è un evento, deve esserci nell'insieme F degli eventi anche l'evento formato dalla loro unione, quindi l'evento 1, 2. Ecco, una conseguenza immediata di queste due proprietà la si vede in questa slide dove c'è una brevissima dimostrazione. Allora, se A è un evento e B è un evento, noi sappiamo che sia A negato che B negato devono essere eventi, ma a questo punto se A negato e B negato sono eventi, la loro unione A negato più negato è un evento e, ancora una volta, la negazione della loro unione, quindi il negato di A negato più B negato, deve essere un evento, ma se voi guardate questo diagramma di Venn, vi accorgete subito che il negato di A negato più B negato non è nient'altro che l'intersezione di A e B. Quindi abbiamo dimostrato che se valgono le proprietà 1 e 2, segue anche che se A e B sono degli eventi, la loro intersezione deve pure appartenere all'insieme degli eventi. Quindi l'insieme degli eventi è un insieme che è chiuso rispetto alle operazioni di negazione, unione, ma anche intersezione. Ma questa è una conseguenza, non abbiamo avuto bisogno di ipotizzare, l'abbiamo dimostrato nel caso dell'intersezione. Ecco, abbiamo visto che dobbiamo usare, usiamo la terminologia degli insiemi. Ecco, le cose che adesso dirò forse sono anche fin troppo banali, però è bene, a mio parere, mettere in evidenza il parallelismo che esiste tra gli eventi e gli insiemi in maniera tale che poi ognuno sia a suo agio nelle discussioni, nelle analisi che seguiranno nel corso. Quindi in queste slide cercheremo proprio di ribadire e illustrare il parallelismo tra gli strumenti dell'insiemistica e la manipolazione degli eventi. Prima di tutto vorrei rendere più intuitiva la nozione di evento, perché tra esiti e eventi è facile fare confusione. Se gli esiti sono abbastanza chiari, nel senso che gli esiti sono i possibili risultati di un esperimento casuale, nel caso del dado sono i numeri tra 1 e 6, nel caso della moneta sono testa e croce, nel caso della tombola sono i numeri tra 1 e 90. Invece la nozione di evento può sembrare un po' più misteriosa. In realtà, se volete avere un'intuizione rapida di che cosa sia un evento, pensate a tutto ciò che può essere oggetto di una scommessa. Quindi è qualcosa su cui potete lanciare una scommessa. Facciamo subito due esempi. Lancio una moneta ed esce croce. Ovviamente posso scommettere su croce, oppure posso anche scommettere su testa. Nel caso di un dado, lancio un dado e posso scommettere che esca un numero pari. Ecco, questa scommessa è più interessante di quella della moneta, perché nel caso del dado gli esiti, sapete, sono 6 e ovviamente è lecito scommettere su uno di questi esiti, quindi potrei scommettere che esca il 6, però in realtà posso fare delle scommesse anche più complesse. Quindi, per esempio, potrei scommettere sul fatto che esca un numero pari. Che cosa vuol dire scommettere su un numero pari? Vuol dire scommettere che esce un numero appartenente all'insieme 2, 4 e 6. Vedete che 2, 4, 6 è proprio un sottoinsieme di S. Quindi io posso scommettere sui singoli esiti, ma posso anche scommettere volendo sui sottoinsiemi di S. Cioè, prendo per esempio i pari, o prendo i dispari, o prendo i valori minori di 3. Quindi in questo caso vorrebbe dire scommettere su 1 e 2. Vedete subito che le scommesse, in generale, possono essere molte di più di quelli che sono gli esiti. Quindi nel caso del dado io ho 6 esiti, ma le scommesse che riesco a immaginare sono tutti e 6 gli esiti, più tutte le combinazioni di questi esiti, tutti sottoinsiemi dell'insieme S. Quindi le scommesse sono moltissime di più. E questo dovrebbe darvi l'idea della differenza tra esito e evento. Quindi evento è tutto ciò su cui potete scommettere e c'è libertà di scommettere molto al di là di quello che sono gli esiti. Quindi potete scommettere su coppie di esiti, su triplette di esiti, su quello che volete mettendo assieme i vostri esiti. Ecco, vediamo un attimo il parallelismo tra esiti e insiemi. Allora, si parla di eventi disgiunti, parallelismo tra eventi e insiemi. Si parla di eventi disgiunti o anche con un altro termine abbastanza eloquente, incompatibili. Allora, due eventi A e B sono disgiunti se non possono verificarsi simultaneamente. Esempio, prendiamo il dado, prendiamo l'evento A che è pari e l'evento B che è dispari. Ecco, se noi li rappresentiamo con degli insiemi, vedete che i due insiemi hanno intersezione vuota, sono due insiemi disgiunti. Dal punto di vista degli eventi, questo significa che non possono verificarsi simultaneamente. Quindi, se esce pari, non può essere uscito dispari e viceversa. E questo ci dice che sono due eventi incompatibili. Ecco, eventi disgiunti incompatibili significa avere due insiemi con intersezione nulla. Si introduce anche la nozione di evento certo, che è l'evento che si verifica certamente. Prendiamo di nuovo il dado. Lancio il dado ed esce un numero compreso tra 1 e 6. Ecco, uscire un numero tra 1 e 6 è un evento certo, perché coincide tra l'altro con l'insieme universo, con lo spazio degli esiti. Naturalmente io posso scommettere in teoria sull'evento certo. Sono sicuro che la mia scommessa avrà successo. Credo di essere altrettanto sicuro che non ci sarà nessuno disposto a mettere dei soldi contro di me, perché io sono sicuro di azzeccare in questo caso. Ecco, però diciamo in qualche modo anche questo viene considerato come un evento. È un evento limite da un certo punto di vista. Un altro evento limite è l'evento impossibile, che corrisponde all'insieme vuoto. Quindi si associa all'insieme vuoto l'evento impossibile. Quello che non può verificarsi, sarebbe come scommettere che lancio il dado e non esce fuori nessun numero. In realtà se lancio il dado uscirà sempre un numero compreso tra 1 e 6. L'unione o la somma di eventi? Allora l'evento C scritto come A più B, qui questo più abbiamo detto è l'unione, è l'evento che si verifica se si verifica A oppure B. Questo è proprio un OR, è un OR logico. Quindi facciamo un esempio, prendiamo un dado in cui l'evento A significa dado dispari, quindi 1, 3, 5. L'evento B sono i numeri minori uguali a 4, quindi 1, 2, 3, 4. L'unione di questi naturalmente lascia fuori solo il 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5. La vedete qui raffigurata con gli insiemi, quindi qui c'è l'insieme A, l'insieme B e l'unione è data dall'insieme C, che è quello col contorno verde. Ecco, allo stesso modo poi si parla anche di intersezione o di prodotto di eventi. L'evento C uguale A per B, qui ci potrebbe usare il segno di intersezione volendo, è l'evento che si verifica quando si verificano sia A che B. Qualche volta si parla anche di evento congiunto. Facciamo di nuovo un esempio, sia A dado dispari e B, 1, 2, 3, 4. L'intersezione di A e B, in questo caso, è data da 1 e 3. Quindi qui vedete A, qui vedete B, la loro intersezione sono 1 e 3 e l'intersezione è indicata in verde ed è l'insieme C. Ecco, abbiamo naturalmente l'evento negato, che è l'evento che si verifica se e solo se non si verifica A. Quindi se A è dado dispari, B uguale A negato sarà dado pari. Ecco, questo finisce la nostra parentesi. Come vedete, sono delle nozioni molto semplici, però è bene avere in mente queste cose perché se uno ha dei dubbi quando deve fare dei calcoli con gli eventi, deve sempre ricordare che dopo tutto non sono nient'altro che insiemi e obbediscono alle regole degli insiemi. Ecco, abbiamo già detto che l'insieme F deve essere un insieme chiuso rispetto alle operazioni di complemento e di unione e anche di intersezione, naturalmente. Abbiamo visto che come conseguenza di queste due proprietà era chiuso anche rispetto all'operazione di intersezione. Ne segue, si vede subito, che l'insieme F dovrà sempre contenere l'insieme universo S e anche quindi l'evento certo e l'evento impossibile. Allora, proviamo ad esercitarci e a costruire un insieme degli eventi, un insieme di possibili scommesse. L'esperimento casuale è una partita di calcio. Allora, la partita di calcio, sempre che non sia sospesa per qualche ragione, anche sanitaria, ma noi escludiamo questa possibilità, quindi torniamo ai tempi in cui le partite avevano solo tre esiti possibili, ha uno spazio degli esiti che è 1x2. 1 significa che vince la squadra che gioca in casa, x che c'è un pareggio, 2 che vince la squadra fuori casa. Ecco, qual è a questo punto l'insieme degli eventi? Quindi l'insieme degli eventi dobbiamo pensare a tutte le possibili scommesse che si possono fare e con l'aggiunta comunque di due, diciamo, eventi ad honorem. I due eventi ad honorem sono lo spazio S degli esiti e l'evento impossibile, quindi questi li mettiamo subito in partenza. Poi io posso scommettere che vinca la squadra in casa, che gioca in casa, metto quindi questo come evento. Poi che ci sia un pareggio posso scommettere, posso scommettere che vinca la squadra fuori casa, poi posso scommettere che il risultato sia o una vittoria della squadra che gioca in casa o un pareggio, oppure posso scommettere che il risultato non sia un pareggio, quindi la vittoria di una delle due squadre, oppure che vinca la squadra che gioca fuori casa, oppure ci sia un pareggio. Ecco, queste sono tutte le possibilità, come vedete in questo caso abbiamo un insieme degli esiti con tre esiti e invece l'insieme degli eventi ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quindi è confermato il fatto che le scommesse sono tipicamente di più, anche molte di più, degli esiti che noi stiamo prendendo in considerazione. Ecco, a questo punto siamo pronti per il terzo ingrediente, quindi dopo aver introdotto l'insieme degli esiti e dopo aver introdotto l'insieme degli eventi, il terzo ingrediente dell'esperimento casuale è la legge di probabilità e la definizione assiomatica di probabilità ci dice che la legge di probabilità P è una funzione definita sull'insieme F e che dà come risultato un numero reale compreso tra 0 e 1, quindi è una qualsiasi funzione che a un qualsiasi evento appartenente all'insieme F, associa un numero reale che noi indicheremo con P di A rispettando alcune regole però. E queste regole sono che la probabilità è sempre maggiore o uguale a 0, che la probabilità dell'evento certo è uguale a 1 e che se A e B sono eventi disgiunti, quindi la loro intersezione è vuota, quindi la loro intersezione è l'evento impossibile, quindi cosa vuol dire impossibile che si verifichino tutti e due, la probabilità della loro unione è uguale alla somma delle probabilità dei singoli eventi. Ecco, questi sono i tre assiomi che reggono tutta la teoria assiomatica della probabilità e da un certo punto di vista è abbastanza stupefacente che tutto quello che verrà in seguito è conseguenza di questi tre assiomi, non abbiamo bisogno di fare altre ipotesi. Se vedete stiamo ipotizzando veramente pochissimo, sembra molto difficile ipotizzare di meno, cioè la probabilità deve essere non negativa, l'evento certo deve avere probabilità 1 e poi c'è questa regola, questa regola prende il nome di proprietà di additività semplice, quindi vuol dire che quando due eventi sono disgiunti, sono incompatibili, la probabilità della loro unione si ottiene sommando le proprietà, quindi la proprietà di additività. Ecco, come avevamo già osservato in una delle scorse lezioni, questa definizione lascia un po' di vertigine perché se ci pensiamo non definisce il valore numerico della probabilità, quindi ci dice qualsiasi legge di probabilità va bene e questo fa capire che dato un insieme di eventi uno non ha un obbligo nella scelta della legge di probabilità, anzi ci sono infiniti modi con cui è possibile assegnare la probabilità. Facciamo subito un esempio con un caso molto semplice, quello della moneta, prendiamo una moneta in cui la probabilità di testa sia 0.5, beh a questo punto posso applicare gli assiomi e vedo che la probabilità di testa più croce, ma testa più croce o unione di testa croce è proprio l'evento certo, se voi ci pensate un attimo, quindi la probabilità di testa più croce è uguale a 1, d'altronde testa e croce sono anche eventi incompatibili, cioè se esce testa non può uscire croce, così, e quindi la probabilità della loro unione è la somma delle probabilità, quindi io ho queste due proprietà, che la probabilità di testa più croce vale 1, che la probabilità di testa più croce è la somma di probabilità di testa più probabilità di croce, da questo deduco che la probabilità di croce è uguale a 1 meno la probabilità di testa uguale a 0.5. Da un'unica vista sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, diciamo, è ovvio, se la probabilità di testa è 0.5, quella di croce vale 0.5, però ricordatevi che stiamo seguendo un approccio assiomatico, quindi noi in realtà non dobbiamo dare niente per scontato, quindi chi lo dice che la probabilità di croce è 0.5? Beh, ce lo dicono gli assiomi, cioè ci dicono, guarda che tu puoi dare la probabilità che vuoi entro certi limiti a testa, se dai 0.5 però ti sei legato le mani, la probabilità di croce deve essere anche l'e 0.5. Ecco, questo ci fa capire che però potrei fare anche qualcosa di diverso. Se per esempio la probabilità di testa fosse uguale a P, dove P è qualsiasi, beh, ecco, in realtà non qualsiasi del tutto, perché diciamo P deve essere maggiore o uguale a 0 e poi, diciamo, siccome è solo l'evento certo che ha probabilità 1, deve essere compreso tra 0 e 1, quindi se io prendo P compreso tra 0 e 1, rifaccio esattamente questo ragionamento e scopro che la probabilità di croce deve essere uguale a 1 meno P. Quindi la definizione assiomatica non mi dice cosa vale la probabilità, però mi dà delle regole, mi dice sei libero di dare la probabilità che vuoi, quasi la probabilità che vuoi a testa, però una volta che hai fatto una scelta per la probabilità di testa, la probabilità di croce è obbligata, altrimenti se fai una scelta diversa vai a violare i tuoi assiomi. Ecco, ci sono alcuni corollari così importanti, sono abbastanza facili da dimostrare, quindi diciamo non li dimostriamo, però è bene averli in mente, perché sono le regole elementari con cui manipolate le probabilità. Un primo corollario è che la probabilità di A, essendo 1 meno la probabilità di A negato, è sempre minore o uguale a 1, è uguale a 1 meno la probabilità di A negato ed è minore o uguale a 1. Provate a dimostrarlo, è abbastanza facile, anche questo è molto interessante perché uno potrebbe pensare che il fatto che la probabilità sia minore o uguale a 1 debba essere una specie di ipotesi di partenza. In realtà una volta che io ho dato l'assioma che l'evento certo probabilità 1 e che vale la proprietà di additività semplice, a quel punto si dimostra che tutte le probabilità devono essere minore o uguale a 1, nessuna può superare l'evento certo come probabilità. La probabilità dell'evento impossibile è 0, anche questo sembrerebbe una cosa che uno debba ipotizzare in partenza, in realtà si dimostra. Se due eventi sono tali per cui B è incluso in A, la probabilità di B è minore o uguale della probabilità di A, che anche questo è molto logico e si può dimostrare. Dopodiché se ho A1, A2, AN, eventi disgiunti e definisco la loro unione, quindi A è l'unione di questi eventi, la probabilità dell'evento unione è la somma delle singole probabilità. Questa è una specie di estensione della proprietà di additività semplice. L'addittività semplice riguarda due eventi, in questo caso avete un numero di eventi grande a piacere, finito però, deve essere finito questo N. L'ultima proprietà che riportiamo qui è una proprietà che è bene tenere a mente, questa è assolutamente importante, e questa proprietà ci dice che la probabilità dell'unione di A e B è la probabilità di A più la probabilità di B meno la probabilità dell'intersezione e che questo risultato ovviamente è minore o uguale di P di A più P di B. A prima vista qualcuno potrebbe sobbalzare sulla sedia perché dice ma non abbiamo appena visto che la probabilità di A più B è uguale a P di A più P di B. Non è che ci stiamo contraddicendo in qualche modo, no, in realtà non ci stiamo contraddicendo perché la probabilità di A più B è uguale a P di A più P di B quando A e B sono disgiunti. Disgiunti vuol dire che l'evento congiunto a B è l'insieme vuoto, cioè l'evento impossibile, e la probabilità dell'evento impossibile l'abbiamo appena visto che è uguale a 0. Quindi come caso particolare recuperiamo comunque la sioma di addittività semplice. Questa probabilità però invece è importantissima perché ci dà la probabilità della somma di due venti, dell'unione di due venti nel caso più generale possibile. Quindi noi fino a questo momento se dovessimo calcolare la probabilità di A più B non lo sapremmo fare a meno che A e B non siano disgiunti perché in quel caso usiamo la sioma. Invece questa qui è la regola generale, quindi è una regola sicuramente da tenere presente. Invece di dimostrarla, non sarebbe difficile, la illustro con un esempio. Quindi calcolare la probabilità che un dado onesto dia un numero pari o minore di 3. Allora l'evento A che è pari è 2, 4, 6 e la probabilità di pari ovviamente è un mezzo. L'evento B che è dado minore di 3 invece è 1, 2 e la probabilità di B ovviamente è un terzo, 2 su 6. Ecco qui ho detto dado onesto, su questo torneremo tra poco, ma dado onesto significa che è un dado in cui le probabilità in qualche modo seguono la definizione classica. Quindi se io devo calcolare la probabilità di pari, pari significa l'unione di 3 esiti, 2, 4 e 6 e quindi vado a fare 3 diviso 6 che è il numero degli esiti del mio esperimento casuale. Ecco, quindi è abbastanza chiaro cosa significa che il dado è onesto. E lo stesso per la moneta onesta, la moneta onesta è quella in cui la probabilità di testa uguale è la probabilità di croce. L'intersezione di A e B, devo prendere questi due insiemi, qui vedete anche 1, qui avete 2, 4, 6 e qui avete 1, 2, l'intersezione è solo 2 come potete notare e la probabilità di 2 è un sesto perché è la probabilità di un singolo esito, abbiamo detto che il dado è onesto. A questo punto possiamo applicare la proprietà che abbiamo appena visto, cioè che la probabilità dell'unione, questa qui vedete l'unione è quella contornata in arancione, è la probabilità di A più la probabilità di B meno la probabilità di AB, quindi un mezzo più un terzo meno un sesto, se fate il conto viene fuori 4 sesti. Ecco, diciamo questo esempio e la figura vi fanno capire al volo perché c'è questo meno, perché c'è questo meno, perché io devo calcolare la probabilità di questo insieme arancione e P di A è la probabilità di quello rosso, P di B è la probabilità di quello blu e vedete che l'intersezione in qualche modo è contata due volte, perché quando calcolo la probabilità di A sto tenendo conto di 2, quando calcolo la probabilità di B tengo di nuovo conto di 2 e quindi devo sottrarre proprio la probabilità dell'intersezione. Insomma, non è una dimostrazione che abbiamo fatto, però dovrebbe aiutarvi, diciamo, a capire il perché di questo termine meno nella nostra formula.